Dito puntato contro Leni, dopo la mattinata di aria irrespirabile a Taranto, stiamo facendo tutti gli approfondimenti e risulterebbe che la responsabilità primaria della puzza di gas sia da attribuire alla raffineria. Così ha commentato Giorgio Senato, l'insopportabile cattivo odore che si è avvertito in diversi quartieri a macchia di leopardo, provocando anche diversi casi di malore, come irritazioni agli occhi e bruciori alla gola. Il direttore dell'ARPA Puglia aggiunge che sono stati rilevati valori molto elevati di idrocarburi, la cui provenienza è certa. Il forte odore di gas ha allarmato i tarantini che hanno mandato in tilt i telefoni delle sale operative dei carabinieri e vigili del fuoco e della polizia del 118. Dopo l'episodio si è attivato anche il comune di Taranto con la richiesta del riesame dell'AIA, rilasciata a tutti gli insediamenti industriali di Taranto. Nell'ottica di una complessiva valutazione e riduzione dei fattori inquinanti che caratterizzano l'area industriale con i conseguenti riflessi degli stessi sulla popolazione ed in particolare sulle fasce più deboli, l'amministrazione comunale, si legge in una nota stampa, ha già formulato richiesta di avvio di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalle autorità competenti agli insediamenti industriali del territorio, Eni, Taranto Energia e Cementir. La richiesta di riesame scaturisce dalla volontà del comune di un adeguamento immediato degli impianti insediati nell'area industriale Tarantina alle migliori tecnologie disponibili e risponde anche alla finalità di conformare l'assetto autorizzativo degli insediamenti industriali al piano che contiene le prime misure di intervento per il risanamento delle qualità dell'area nel quartiere Tamburi per gli inquinanti benzopirene PM10.